Adesso abbiamo Flavio che, come ha già detto, è architetto, è laureato a Roma 3 e anche fotografo, si può definire a tutti gli effetti anche un fotografo, ha fatto esperienze interessanti in questi anni, ha collaborato con studi internazionali, tra cui lo studio italo-francese Lan, che ha sede a Parigi e di recente ha fondato qua a Roma il suo studio, che ha un sito molto interessante, dicevo, che vi invito a visitare. Lui ha discusso anche la tesi di dottorato a Roma 3, in questo dottorato, con il relatore Lorenzo Dallorio, su un tema interessante, intrigante e secondo me molto attuale, che è quello della relazione tra architettura contemporanea e immagine fotografica, che era anche il tema della tesi di laurea a letto, quindi insomma Flavio si può definire un vero e proprio esperto di questo tema, di questa relazione. Diciamo, la domanda di fondo della sua ricerca è capire come cambia l'architettura, soprattutto con la diffusione dei media digitali, che hanno reso pervasiva la presenza delle immagini e delle immagini fotografiche dell'architettura contemporanea. Quindi in qualche modo le immagini fotografiche diventano oggetto di consumo e a questo punto anche il soggetto delle foto e quindi l'architettura diventa oggetto di consumo, come dice esplicitamente, molto esplicitamente il tema, il titolo della lezione di oggi. Prima riflettevo in fondo, prima della diffusione dei media digitali la fotografia si poteva considerare un mezzo per l'architettura attraverso il quale gli architetti potevano raccontare la propria opera costruita, anche manipolando le immagini, come sappiamo facevano i maestri del moderno per veicolare in qualche modo un'immagine ben precisa della loro opera, così come il disegno poteva essere considerato il mezzo per raccontare l'architettura progettata. Oggi probabilmente la fotografia non è più un mezzo a servizio dell'architettura, ma come sostiene Flavio l'architettura è l'architettura al servizio dell'immagine, l'architettura che diventa un prodotto fotografico e questo chiaramente ha ripercussioni molto profonde sul modo di concepirla l'architettura, sulla sua dimensione spaziale, sul suo linguaggio, come dice Flavio, e sulla capacità di stabilire una relazione con i luoghi e quindi di incidere sulla loro qualità. Quindi ha una ripercussione profonda sulle ragioni fondative dell'architettura e per questo credo che il tema sia di estremo interesse. Il titolo appunto della lezione è abbastanza esplicito, anche più esplicito del titolo della tesi dottorato, quindi forse Flavio ha fatto ulteriori riflessioni in questi tre anni. Quindi io direi di lasciare la parola a lui e anche le immagini, diciamo, il racconto per immagini che ci farà vedere. Grazie mille di aver accettato questo invito. Allora, grazie a voi. Condivido lo schermo così possiamo iniziare. Ok. Vedete la locandina, giusto? Sì, perfetto. C'è la ballerina. Allora, di all'angaggio, come la fotografia ha trasformato l'architettura in merce? Naturalmente, come anticipava Milena, il titolo è un po' transciano, un po' provocatorio, ma adesso lo andremo a spiegare anche in relazione a quello che è stato il percorso, il percorso della tesi, ma anche il percorso poi architettonico di questi anni. Iniziamo da qui, diciamo, partiamo da un'immagine. Immaginate adesso di stare seduti ad un tavolino di un bar, in una qualsiasi piazza italiana, e di chiacchierare con i vostri amici. Tra una chiacchiera e l'altra potrebbe capitarvi di buttare l'occhio sul cellulare e accorgervi che sono arrivate una serie di notifiche. Tra queste notifiche magari vi è arrivata una fotografia, una fotografia, un'immagine, un messaggio di un amico che non sta lì con voi, sta altrove, in un altro spazio, in un'altra città. Ecco, voi magari potete commentare questa immagine, mettete un like, non so, inviate un'altra fotografia, fate qualcosa di simile. Tutto questo lo fate però mentre restate lì, seduti al tavolino del bar, a chiacchierare con i vostri amici. Lo fate nel medesimo istante, diciamo, senza soluzione di continuità. Ecco, senza accorgervene, nelle vostre vite in quel momento ci sono sovrapposte due realtà. Una è la realtà fisica, siete voi lì in una piazza precisa, seduti a un tavolino di bar col quel bicchiere di vino con quegli amici lì, contesto fisico. Dall'altro si è manifestato un altro tipo di contesto, un altro tipo di realtà, che è una realtà virtuale. È tutto ciò che in qualche modo stavate comunicando con il vostro amico dall'altra parte del mondo, semplicemente in un altro posto, in un altro spazio della città. Ecco, queste due realtà all'interno della nostra vita convivono e convivono sempre di più. Sarà banale dirlo, ma in fondo io sto qui oggi davanti a uno schermo e noi stiamo qui, voi mi state ascoltando, ma siamo in uno spazio virtuale, stiamo chiacchierando, c'è questa presentazione, c'è questa lezione, però tutti voi state in uno spazio fisico differente. Se voi spostate lo sguardo dallo schermo del computer altrove, tutti voi oggi, in questo preciso momento, state vedendo un paesaggio differente. Un paesaggio che molto probabilmente, per la maggior parte di voi, sarà un paesaggio domestico, visto che alla fine stiamo quasi tutti nelle nostre case, oppure all'università, non so bene dove vi trovate. Bene, quindi spazio fisico e spazio virtuale. Si è parlato tanto, soprattutto in questo ultimo anno di questo, e c'è da dire che sicuramente la pandemia è stata un'accelerazione di questi processi, si dice sempre, però è stata un'accelerazione di qualche processo che in effetti esisteva prima ed esisteva da diversi anni. Adesso vedremo come si è sviluppato. Non so se Milano hanno detto, ma comunque questo racconto parte da una tesi che ormai è stata discussa tre anni fa e che avevo iniziato a scrivere sette anni fa. Quindi diciamo che se tutto quello che vi racconterò in fondo oggi è manifesto ed è diventato un po' la quotidianità delle nostre vite, qualche anno fa ancora non lo era così chiaro, però già diciamo così poteva essere un argomento interessante da approfondire. Bene, contesto fisico e contesto reale. Noi siamo qui, ma siamo anche altrove. Ognuno è all'interno del proprio spazio, ognuno è all'interno della propria abitazione, ma in questo momento stiamo chiacchierando in questo spazio virtuale. Il passaggio successivo qual è? Che anche l'architettura vive di questa duplice realtà. Cioè anche ogni architettura oggi è contemporaneamente immersa sia nel suo contesto fisico, cioè è costruita effettivamente lì e sorge accanto ad altre architetture in una città specifica e le relazioni che intercorrono tra le persone che abitano quel luogo, quello spazio e l'architettura stessa sono delle relazioni urbane, sono delle relazioni di un contesto urbano. Quindi da un lato c'è questo contesto fisico, che è sempre esistito naturalmente. Ma da qualche anno a questa parte, adesso vedremo anche quando, come e in che modo si è sviluppato, accanto a questo contesto fisico è sotto un altro contesto, che è il contesto virtuale, ovvero tutte, ovvero diciamo la somma di tutte quelle immagini, quelle riproduzioni e quei video dell'architettura stessa. Sarà banale, ma noi oggi possiamo conoscere, conoscere sempre tra virgolette, un'architettura senza averla mai visitata. Non siamo mai stati a New York, ma probabilmente l'esperienza di passeggiare tra i grattacieli di New York l'abbiamo avuta tramite infinite immagini, infiniti film, eccetera eccetera. Quindi contesto fisico da un lato, contesto virtuale dall'altro. Bene, quello che andremo a raccontare oggi è questa sorta di sovvertimento, ovvero come il contesto virtuale abbia preso sempre più spazio, sempre più spazio sul contesto fisico e lo abbia influenzato, influenzando l'architettura, la forma architettonica, influenzandone i linguaggi, influenzandone quelli che sono gli spazi di relazione tra noi che in fondo viviamo, conosciamo e abitiamo un'architettura e la conoscenza, diciamo così, mondiale dell'architettura stessa e soprattutto è stato cambiato dal punto di vista economico. Andiamo avanti. Primo personaggio di questa storia è Walter Benjamin. Walter Benjamin, diciamo così, di questa storia è un eroe, quasi un eroe tragico. Nasce a Berlino alla fine dell'Ottocento, nel 1892 e nasce da una famiglia di origine ebraica. È filosofo, tenta la carriera universitaria a Francoforte, però manca l'abilitazione, non riesce ad ottenerla e si trasferisce a Parigi. Siamo già nel 39, la guerra è vicina, scoppia la guerra e Parigi nel 40 è invasa dai tedeschi. Lui appunto è ebreo, scappa e cerca di scappare negli Stati Uniti per raggiungere Adorno, per raggiungere i suoi colleghi. Passa ai Pirenei, passa la frontiera tra Francia e Spagna, però in una cittadina spagnola si vede ritirare il visto. Si vede ritirare il visto e quindi teme che il giorno seguente possa essere riportato in Francia, consegnato ai tedeschi. Il fratello di Werther Benjamin morirà in un campo di concentramento, quindi diciamo le sue paure erano paure reali. Quella notte sono paure così forti che non riesce a superarle e si toglie la vita, si suicida. Ironia della sorte, il giorno dopo, il pomeriggio stesso, dopo la sua morte, arriverà questo visto che gli avrebbe permesso di partire, di arrivare negli Stati Uniti, come in effetti accadrà a quelle persone che erano con lui durante tutto questo viaggio. Ecco, tanto travagliata è stata la vita di questo personaggio, quanto travagliata è stata la sua opera, la sua opera principale, che in fondo immagino tutti noi conosciamo, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Di questo saggio sono state scritte cinque versioni, quattro in lingua tedesca ed una in lingua francese. Curiosamente l'unica è stata pubblicata durante la vita di Benjamin, è proprio la versione francese. Però la versione francese è stata pubblicata con una serie di tagli redazionali molto importanti, tanto che viene addirittura disconosciuta da Benjamin. E quindi l'opera d'arte, così come noi la conosciamo oggi, cioè il suo testo, in realtà è stato pubblicato negli anni 50, postum, dopo la sua morte e su cosa effettivamente lui abbia scritto c'è un grandissimo dibattito, c'è tantissima letteratura. Perché è essenziale? Perché è importante Benjamin all'interno di questo discorso? Ma perché tra i primi parla del rapporto tra la riproduzione, tra la riproduzione di un oggetto artistico e, diciamo così, della sua autenticità? Ma non parla solo di questo, la parte centrale del suo discorso è anche l'idea di decontestualizzazione dell'opera. Leggo, vi leggo due righe dell'opera d'arte dell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Scrive Benjamin, essa, cioè la riproducibilità tecnica, può introdurre la riproduzione dell'originale in situazioni che all'originale stesso non sono accessibili. In particolare gli permette di andare incontro al fruitore nella forma della fotografia oppure del disco. La cattedrale abbandona la sua ubicazione per essere accolta nello studio di un amatore d'arte. Ecco quindi il primo tema, il primo tema importante. Nel momento in cui un'opera viene riprodotta, perde le sue relazioni contestuali con quello che effettivamente è stato il luogo dove era stata o pensata oppure allestita. Naturalmente Benjamin mette in risalto le qualità negative della riproduzione, della riproducibilità. e in effetti certamente nel momento in cui un'opera d'arte viene riprodotta qualcosa si perde. E si perde forse proprio questa relazione con il contesto, al di là della qualità della riproduzione dell'opera stessa. Facciamo un passettino successivo, perché poi per quanto attuale è stata ed è tuttora lo scritto e l'opera di Benjamin naturalmente è stata anche fortemente criticata. Forse uno degli aspetti più curiosi, degli eventi, degli avvenimenti più curiosi è accaduto in questo luogo. Siamo a Venezia, siamo sull'isola di San Giorgio, nel complesso costruito da Palladio, le nozze di Cana del Veronese, seconda metà del Cinquecento. Il Veronese è chiamato a produrre una grande opera all'interno del refrettorio di questo spazio, di questo spazio palladiano. Probabilmente gli viene chiesto un affresco, però siamo a Venezia, c'è molta umidità, e produrrà una tela, una tela enorme, grande quanto tutta la parete dello spazio del refettorio, dello spazio palladiano, e la cosa estremamente interessante, come accadeva molto spesso nei ripinti dell'epoca, è che è un quadro che, diciamo così, completa in maniera virtuale, potremmo dire, quello che è lo spazio fisico dello spazio architettonico palladiano. L'architettura di Palladio entra in armonia ed entra in conflitto con quella che è l'architettura dipinta dal Veronese. Siamo nella seconda metà del Cinquecento, passano due secoli, e Parigi brucia, scoppia la rivoluzione, le truppe napoleoniche invadono l'Italia, tra queste anche Venezia, e prendono una serie di opere d'arte. Tra queste anche le nozze di Cana era un'opera che in quei due secoli era famosissima, era una delle opere più importanti di quel periodo storico. Tagliano quest'opera, la trasportano a Parigi e poi la rigusono e la spongono nel Louvre, e nel Louvre di Parigi quest'opera continua ad essere all'interno di una delle sale più importanti di questo museo internazionale, di questo museo molto importante. Dove sta l'opera? L'opera non sta in un punto qualsiasi, sta esattamente di fronte alla gioconda, quindi ha una sua centralità effettivamente molto importante. Da un lato c'è lo spazio palladiano, che ormai è vuoto, e dall'altro c'è quest'opera all'interno di un Louvre, all'interno di un grandissimo museo, di un museo molto importante, e quindi che ha la possibilità di essere vista da tantissimi spettatori, forse molto di più rispetto a quelli che effettivamente potevano guardarla a San Giorgio, a Venezia, nello spazio di palladio. Il fatto sta che nel 2007 è stata fatta una riproduzione di quest'opera. Attenzione, non è stata fatta semplicemente una fotografia, ma è stata fatta una riproduzione tridimensionale, dove attraverso anche un'equipo di restauratori sono state riprodotte tutte quelle che sono state le imperfezioni, i tagli, il passare del tempo su questa tela, su quest'opera. E questa riproduzione è stata posta all'interno di questo complesso, di questo spazio, e quindi è tornato ad essere abitato, ad essere compiuto da un lato l'architettura di palladio e dall'altro il dipinto del veronese, che però non è il dipinto del veronese, perché è una riproduzione, è una copia, in un certo senso sì, è una copia ben fatta di quest'opera. E allora la prima domanda è ma in fondo qual è questa perdita dell'aura di cui parlava fortemente Benjamin, che effettivamente esiste, a che cosa è legata? Cioè è legata all'opera in sé, oppure è legata alle relazioni contestuali che noi abbiamo con l'opera. Cioè è più vera oggi l'opera effettivamente, l'opera d'arte effettivamente realizzata dal veronese, che però è esposta, decontestualizzata in un museo lontano da dove effettivamente era stata pensata e progettata, oppure la sua copia, la sua copia che oggi è è esposta in uno spazio, in uno spazio che può essere abitato e che proprio essendo una copia e quindi avendo un valore assai minore rispetto all'opera del veronese, è interessante che questo spazio poi effettivamente può essere usato, può essere utilizzato, perché oggi il grande problema delle opere d'arte è che se prima le opere d'arte erano a compimento di uno spazio architettonico che veniva tutti i giorni utilizzato, oggi per mantenere quelle opere d'arte, per evitare che si possono deperire nel tempo, hanno bisogno di una serie di salvaguardie, quindi non possiamo più accendere un cero di fronte a un'opera d'arte in una chiesa, perché questo gli farebbe male. Allora in fondo, diciamo così, la butto lì sul tavolo, qual è tra le due l'opera che mantiene di più la sua relazione con il contesto? Beh, forse sicuramente questa qui, però questa qui è una sua copia e la copia, l'opera d'arte originale in realtà sta altrove. Bene, secondo personaggio di questo racconto, di questa storia, Andrea Marlò. Andrea Marlò è l'opposto di Benjamin, Andrea Marlò è un personaggio curiosissimo, un vincente, quel compagno di banco che avremmo tutti voluto avere alle superiori. È un parigino, nasce a Parigi all'inizio del Novecento, in una famiglia modesta in realtà, però è un ragazzo brillante, intelligente, ha l'opportunità di studiare e si sposa molto presto con una ricca ereditera, di famiglia ebraica, anche lei. È giovane, è intelligente, gioca in borsa, perde tutto, dilapida tutto il patrimonio, il patrimonio è la famiglia di lei, della ragazza. Decide poi quindi di partire, di lasciare a Parigi, di abbandonare la città e di fare un lungo viaggio in Indosina. In Indosina inizierà a trafugare alcune opere d'arte, alcuni riaperti archeologici, che probabilmente avrebbe voluto rivendere al mercato nero parigino. Neanche a dirlo viene scoperto, viene arrestato, viene condannato a tre anni di galera. Ora è interessante vedere come siamo negli anni venti, sul fine degli anni venti, probabilmente l'edit parigino ancora non ha capito se ha di fronte, diciamo così, un truffaldino, un tombarolo, diremmo a Roma, oppure un fine intellettuale. Diciamo che opta per la seconda scelta, a fa grandi pressioni sul governo francese, che a sua volta fa pressioni sul governo asiatico e Marlowe dopo pochi mesi viene liberato. Torna a Parigi e scrive un romanzo, un romanzo fortemente autobiografico, e comincia a diventare un personaggio importante all'interno di quell'elite culturale, di quella società europea. Sono gli anni tenta, scoppia la guerra civile spagnola e va a combattere per la Repubblica contro il colpo di Stato. Tornerà a Parigi, scoppia la seconda guerra mondiale, anche qui combatterà di nuovo, viene catturato dai deteschi, evade e dopo una serie di episodi entra nella resistenza. E qui conosce De Gaulle, il futuro presidente della Repubblica francese. Diventerà il suo braccio destro e De Gaulle lo vorrà come ministro della neonata Repubblica negli anni successivi al dopoguerra. All'inizio è ministro della propaganda e dell'informazione e nei decenni successivi diventerà ministro della cultura. Ora per noi è abbastanza normale, diciamo così, che esiste il ministero della cultura. In realtà quella fu la prima volta in cui effettivamente questo ministero fu costituito del pare, fosse stato costituito proprio, diciamo così, per la figura di André Marlò. Bene, all'interno di questa storia, in tutti questi anni, lui scrive un libro, un libro molto importante, anche se in buona parte dimenticato. Io credo che non esiste una versione italiana, io non l'ho mai trovato. Il libro in questione si chiama Le Musee Immaginario, il museo immaginario. La prima versione è scritta nel 1947, poi lo approfondirà e scriverà durante gli anni 50 altri capitoli, altre parti. Che cos'è il Museo Immaginario di Marlò? Beh, torniamo all'Uvro. Il Luvro è uno spazio fisico, un museo, un museo reale. Bisogna entrare all'interno di un edificio e all'interno di questo edificio si può passeggiare e si possono vedere le opere d'arte all'interno di quello spazio. Quindi è uno spazio reale, uno spazio realizzato. Bene, il Museo di Marlò è un museo virtuale, cioè quelle opere non sono più effettivamente delle opere d'arte che noi possiamo guardare, con le quali noi possiamo avere una relazione diretta, ma sono delle stampe, sono delle stampe inserite all'interno di un libro che noi possiamo guardare semplicemente come delle riproduzioni fotografiche. Questo passaggio, che anche qui a noi ci sembra probabilmente banale perché in fondo viviamo in un momento, in una società in cui tutto è riproduzione, siamo abituati ad aprire un libro e vedere delle fotografie stampate perfettamente. Ecco, allora c'era anche proprio un problema tecnico, cioè a un certo punto si è riuscito a stampare a poco prezzo delle fotografie che avevano comunque una buona qualità e di inserirle all'interno di un testo. Qual è un po' la rivoluzione? La rivoluzione è che si potevano comparare tra loro delle opere d'arte che nel tempo e nello spazio erano distanti. Cioè all'interno di questo testo si poteva comparare un Picasso a Velázquez, un'opera d'arte egizia con una scultura greca, eccetera, eccetera. Questa idea di comparazione di oggetti e di opere che sono tra loro distanti nel tempo e nello spazio è fondamentale ed è estremamente interessante. Attenzione però, quest'opera di Marlò continua ad essere, diciamo così, un'opera del Novecento, cioè è vero che è un museo virtuale, però anche è vero che è uno spazio effettivamente fisico, cioè il suo museo virtuale diventa un libro. Che cosa vuol dire che diventa un libro? Vuol dire che tutte queste opere e quest'opportunità immensa di comparare le opere d'arte avviene attraverso delle stampe che sono numerate, che sono anzitutto scelte dall'autore, numerate, catalogate e inserite all'interno di un testo che ha un inizio e che ha una fine. Cioè la comunicazione di questa comparazione è una comunicazione assolutamente verticale, è una comunicazione che inizia da Marlò e arriva a noi che leggiamo questo testo. Quindi niente a che vedere in realtà con l'opportunità che ci dà oggi il web, che ci dà oggi internet. Se guardate queste due fotografie, la prima naturalmente è André Marlò nel 1953, nella sua casa che sta appunto componendo una delle altre edizioni del suo libro, la seconda è una bacheca a Pinterest. Queste due immagini quindi possono sembrare in fondo simili, però una appartiene al secolo passato, una appartiene a un tipo di comunicazione profondamente novecentesca. L'altra invece è estremamente contemporanea. Non dico che appartiene a una comunicazione orizzontale, perché naturalmente la comparazione di queste opere non è del tutto casuale, è prodotta da algoritmi, è prodotta da alcuni gesti che facciamo. Quindi se guardiamo determinate cose, diciamo così, sarà molto probabile che ce ne vengono proposte altre. Però di sicuro non c'è una redazione dietro, non c'è una persona fisica che dice ok, guarderai questo, questo e questo, con questo tempo, con questa sequenza. Passo successivo. Roland Barthes. Roland Barthes, forse questo testo, a differenza del testo di Marlò, è un testo invece conosciutissimo, tradotto e ritradotto in tutte le lingue, la camera chiara. Perché questo testo? Perché in fondo qualcuno potrebbe dire ok, ma in realtà questo accadeva anche prima, perché è vero che non c'era la fotografia, però c'erano i disegni. E si potrebbe scrivere, alcuni hanno scritto una storia di come la comunicazione stampa da quando i disegni hanno avuto l'opportunità di essere riprodotti, riprodotti all'interno di un libro stampato e quindi grazie alle riproduzioni dell'incisione, beh, hanno influenzato fortemente il mondo architettonico. E questo è sicuramente vero, anche se il disegno è differente dalla fotografia. E questo ce lo racconta Roland Barthes. Roland Barthes si dice nelle prime righe del libro, ve lo leggo, sono due righe, Barthes inizia così questo testo, dice «Un giorno, molto tempo fa, mi capitò sotto mano una fotografia dell'ultimo fratello di Napoleone, Girolamo. In quel momento, con uno stupore che da allora non ho mai potuto ridurre, mi dissi, sto vedendo gli occhi che hanno visto l'imperatore». Ora, per una sorta di proprietà transitiva, Barthes stava guardando una fotografia di Girolamo, gli occhi di Girolamo e quegli occhi di Girolamo avevano visto Napoleone, perché è interessante, perché naturalmente Napoleone era vissuto prima dell'avvento della fotografia, subito prima, era morto poco prima e quindi non si hanno immagini fotografiche di Napoleone. E quindi, diciamo così, proiettava il suo sguardo addirittura prima dell'avvento della fotografia stessa. E questa proiezione lui riusciva a farla perché era una fotografia. Se fosse stato un disegno, non sarebbe stata, diciamo così, la nostra mente non avrebbe letto quelle immagini allo stesso modo. Esempio classico, se c'è un assassino e c'è un giudice, il giudice deve giudicare attraverso delle prove. Un conto è che queste prove sono dei disegni di quel fatto, di quello accaduto, di quell'assassinio. Un conto è se queste prove sono delle fotografie. Se sono delle fotografie, beh, avranno sicuramente, diciamo così, un riscontro assai maggiore. E allora qual è, diciamo, la specificità della fotografia rispetto al disegno? Beh, che nella nostra mente, nel momento in cui qualcosa è fotografata, ci sembra che quella cosa sia vera o meglio, sicuramente che sia reale. Che sia vero non è mica detto, perché poi parallelamente a questo c'è un grandissimo dibattito, ovvero che in fondo la fotografia non è che riproduce la verità, la fotografia riproduce la realtà. E poi quella realtà può essere vera, può essere falsa, può essere una messa in scena, può essere mistificata. E anche qui sarebbe lungo da raccontare, ma ci sono una serie di autori che, soprattutto sul finire del Novecento, hanno lavorato, una serie di artisti, una serie di fotografi, proprio su questo, su questa relazione tra la lettura che la nostra mente ha di una fotografia e quindi subito, immediatamente pensiamo che quell'oggetto è un oggetto reale, che quel fatto è un fatto che effettivamente è accaduto e invece questo potrebbe non essere così, potrebbe non essere vero. Dico questo e allo stesso tempo lo contraddico perché in realtà questa cosa era una cosa effettivamente vera fino a dieci, quindici, venti anni fa. Oggi questo sta cambiando profondamente perché siamo così in realtà abituati all'idea che le immagini digitali possono essere, userò una parola, photoshoppate o comunque possono essere alterate attraverso dei programmi. Oggigiorno quando vediamo una fotografia in fondo non sappiamo se è un'immagine effettivamente vera o se è stata modificata, magari è stata modificata in una piccolissima parte. Anche qui naturalmente non è che prima del digitale le fotografie non venissero modificate, venivano modificate e venivano modificate tantissimo, però per modificarle bisognava avere qualcuno che lo sapesse fare. Cioè lo stampatore, era poi quello che stampava effettivamente le immagini, alterava fortemente spesso le immagini, ma era come dire, era un ruolo, era un mestiere. Ecco, questo ruolo, questo mestiere adesso lo può fare chiunque. Ieri lo poteva fare un bambino con Photoshop, oggi attraverso il cellulare ci sono delle applicazioni preimpostate, non dobbiamo quasi più far nulla, è veramente qualcosa di molto semplice. Passaggio successivo, iniziamo un po' a parlare forse di architettura. Che cos'è il render fotografico? Perché? Perché noi siamo abituati oggi a guardare una serie infinita di immagini e quelle immagini influenzano la nostra conoscenza e se siamo architetti, se siamo progettisti probabilmente influenzeranno anche il nostro lavoro, anzi certamente influenzeranno il nostro lavoro. Ebbene, però, quante volte abbiamo visto un'immagine in questi ultimi anni senza riuscire a capire se quelle immagini erano effettivamente una fotografia, quindi di un edificio realizzato, oppure un render fotografico, quindi un'immagine virtuale, una fotografia di un modello virtuale. Fino a poco tempo fa non era così, che in un certo senso si riusciva a capire. Adesso, in molti casi, è veramente difficile comprenderlo. E allora, questo è interessante perché appunto, che sia un render, e quindi una fotografia, diciamo così, un'architettura virtuale, o che sia invece un'architettura effettivamente realizzata, a noi che scorriamo quelle immagini influenza allo stesso modo. Ora, André Marlò, diciamo così, la fotografia digitale, una bacheca Pinterest, e arriviamo a citare quest'altro testo, un testo del 2008, dopo la fotografia, già diciamo dal titolo racconta molte cose, Fred Ritskin. Diciamo, all'interno di questo testo Ritskin ci parla della fotografia 2.0, che altro non è, diciamo così, che le fotografie all'interno del web 2.0. Che cos'è il web 2.0? È in fondo quel luogo che permette un'interazione tra gli utenti. Quindi, se prima io ero semplicemente spettatore di un'immagine, adesso io posso in qualche modo essere un attore, posso essere partecipe di quel meccanismo. Posso inserire un'immagine all'interno di una piattaforma web, posso commentarla, e posso avere delle relazioni anche qui, forse se non orizzontali, diciamo, di certo non sono più delle relazioni verticali, come poteva avvenire prima, o come avviene tuttora in alcune riviste, dove effettivamente c'è una redazione che sceglie cosa pubblicare e cosa non pubblicare. Qui tutti noi possiamo pubblicare quasi tutto quello che vogliamo. E questo è un cambiamento importante, perché c'è, come dire, avviene una sorta di condizione di coesistenza tra quello che è l'atto del consumo e l'atto del produrre. È stata coniata questa parola, prosumer, cioè la frase di producer e consumer, cioè tutti noi nel momento in cui interagiamo con il web 2.0, quindi con questo meccanismo, in fondo siamo certamente dei consumatori, perché stiamo guardando delle immagini, però siamo anche dei produttori. E attenzione, non è che siamo dei produttori solo e nel momento specifico in cui postiamo delle fotografie, no, noi siamo dei produttori anche semplicemente perché le stiamo guardando, perché per guardarle noi stiamo distribuendo dei dati, stiamo dicendo a qualcuno che stiamo guardando una tipologia di immagini. E quindi questo è estremamente importante. Che cosa siamo? Dei consumatori o dei produttori? Siamo di qualcosa di intermedio, qualcosa che appartiene ad entrambe le sfere. Oggi postare un contenuto su Instagram, ad esempio, non è un gesto neutro, è un'attività che alcuni hanno comparato a un lavoro produttivo, cioè a un atto che genera un plus valore, un plus valore perché alimenta un'economia. E la cosa interessante che andremo a vedere è che questa economia non è che sia direttamente collegata a quell'oggetto lì. È un'economia distinta, però allo stesso tempo parallela e non esplicitamente subalterna all'oggetto che noi andiamo a fotografare. Ancora un passo indietro, ancora un testo da citare. Veblen, teoria della classaggiata. Questo veramente è un testo che fino a poco fa era dimenticato, adesso invece ricomincia ad essere importante. È un testo del 99, del 1899. Siamo alla fine dell'800, siamo in America e Veblen scrive questo testo molto ironico. Veblen è un personaggio molto più vicino a Benjamin che a Marlowe e scrive questo testo molto ironico dove ironizza su quella che era l'alta borghesia della società americana. All'interno di questo testo parla dei consumi ostentativi, ovvero dei consumi posizionali. Cioè tutti quei consumi che ci permettono, che ci permettono di posizionarci all'interno di uno stato sociale o di uno stato culturale. In altre parole, i consumi ostentativi per Veblen non sono, e non sono non soltanto esempio attuale, compro una macchina costosa per far vedere che posso permettermi di comprare quella macchina, no? Questo è banale. La cosa interessante è che i consumi posizionali, i consumi ostentativi più alti, sono dei consumi culturali. All'epoca di Veblen era la musica colta, era saper tradurre latino e greco. Che cosa serve nella quotidianità? Veblen dice anzitutto, al di là dell'apparato culturale di una propria persona, serve anzitutto a posizionarsi all'interno di una classe sociale. E quindi, diciamo così, l'opera d'arte, se vogliamo, l'estetica, diventa parte dell'economia stessa, perché serve proprio a posizionarsi all'interno di uno stato sociale prestabilito. Questo, anche questo, a noi potrebbe sembrare forse una banalità, ma banale soprattutto allora non era, perché siamo sul fine dell'Ottocento e tutto l'Ottocento e soprattutto anche tutto il Novecento, diciamo, vivrà di una banalizzazione di alcuni discorsi e di alcuni scritti, soprattutto di derivazione marxista. Uno tra questi, forse la banalizzazione più alta e più comune nel campo architettonico, è stata la separazione tra struttura e sovrastruttura. Cosa scrive Marx? Struttura è l'economia, la struttura è tutto ciò che ha a fare con l'economia, la sovrastruttura invece sono le sovrastrutture estetiche e quindi l'arte, ma anche la filosofia, ma anche l'architettura, sono delle sovrastrutture ed essendo sovrastrutture sono dipendenti dall'economia. Esiste l'economia e poi esistono alcune sovrastrutture dipendenti. Cos'è più importante? Naturalmente all'interno di questo discorso è molto più importante l'economia, è molto più importante l'apparato produttivo che, diciamo così, un'opera d'arte che ancora allora veniva vissuta come qualcosa che serviva semplicemente per essere guardata, le beaux-arts, le belle arti. Ecco perché Veblen è così importante, perché Veblen ci dice l'opposto, cioè ci dice attenzione, guardate che l'estetica non è questo. L'estetica non è qualcosa di subalterno all'economia, l'estetica è la forma più alta dell'economia, perché proprio attraverso le forme estetiche e proprio attraverso l'esercizio dei consumi culturali noi determiniamo una serie di posizionamenti di classe e questi posizionamenti di classe determinano la nostra economia, determinano la nostra struttura sociale, i nostri scambi commerciali. Bene, passo avanti, architettonico. Esempio, diciamo così, scolastico, il Guglain di Bilbao. Raramente si visita il Guglain di Bilbao per guardare effettivamente le opere d'arte che esso contiene. Tendenzialmente lo si fa per compiere un'esperienza collettiva. Che sia turismo di massa, che sia turismo colto, adesso questo non ci importa. Se noi dovessimo prendere in prestito le definizioni di Beblin, potremmo dire che l'atto, l'atto di visitare il Guglain di Bilbao è un consumo ostentativo, ovvero è un gesto che alcune persone compiono per posizionarsi all'interno di un determinato status culturale e sociale. Ora, la cosa più interessante è che questo posizionamento, ed è questo il passaggio successivo, il passaggio contemporaneo, il passaggio tra virgolette rivoluzionario, è che questo posizionamento non è più compiuto e riconosciuto nel momento in cui l'opera è visitata, ma nel momento in cui quell'esperienza viene condivisa e viene confermata da più persone. Cioè diventa quasi più importante la narrazione di un fatto e la possibilità di comunicare quel fatto rispetto a vivere il fatto in sé. Ora, quindi, esperienza e condivisione nella società contemporanea, l'esperienza sembra esistere quando è comunicabile, quando è condivisa. E quindi questa condivisione dell'esperienza è permessa ed è promossa, in questo momento storico, dalla fotografia 2.0, che alimenta attraverso questo circuito tra reale e tra virtuale quella che è la mediatizzazione dell'edificio. E questa mediatizzazione ne influenza quindi le forme e ne influenza le relazioni urbane. La cosa interessante che andremo a vedere adesso è come una concezione spaziale possa effettivamente influenzare quelle che sono le relazioni tra le persone. Quindi non semplicemente un oggetto che io guardo, ma un oggetto che ha una sua vitalità, perché genera da un lato, diciamo così, un'economia, un indotto economico, ma dall'altro anche delle relazioni personali, delle relazioni tra le persone. Attraverso il circuito di condivisione fotografica, l'estetica, ovvero la percezione esperenziale di uno spazio, è diventata parte integrante della funzione. Cosa vuol dire anche qui? Qual è la funzione del Google and di Bilbao? In teoria sarebbe quella di un museo e quindi di contenitore di opere d'arte, ma è veramente quella la sua funzione? In realtà no, cioè la sua funzione è quella di essere stato un simbolo, un'icona che è riuscito a produrre un indotto economico estremamente importante che ha risollevato una cittadina, una cittadina basca, allora diciamo così post-industriale, quindi che aveva perduto quella che era la sua economia non esintesca. Quindi diciamo così, l'estetica diventa parte stessa della funzione ed è parte stessa della funzione perché è condivisibile, perché genera un indotto. Io vado lì, fotografo questa cosa, altri la fotografieranno, eccetera, eccetera, eccetera. Il turismo di massa. Anche qui il turismo di massa non nasce con la fotografia del punto zero. La storia è lunga, però sicuramente cambia nel momento in cui lo spettatore non è più semplicemente, diciamo così, qualcuno che riceve un'immagine, ma è un attore protagonista di un sistema. È un attore che può entrare a far parte di quel sistema. E allora, essendo in assenza di consumatori impossibile generare profitto, sicuramente maggiore risulterà all'interno di questo contesto la capacità di comunicare l'opera ad un vasto pubblico e maggiore si realizzerà la possibilità di ottenere un guadagno sempre più elevato. Questo rapporto tra virtuale e reale, tra spazio virtuale e spazio esperienziale, naturalmente è stato al centro di grandi dibattiti architettonici e alcune figure, in cui prendiamo il caso di Colas, lo hanno approfondito. Guardate questa pubblicazione. Questa pubblicazione è una pubblicazione del 2006, in cui si chiama Utenti, il meglio del web. E Colas va a cercare con l'alternino all'interno di Flickr, che era allora, diciamo così, la piattaforma dove venivano condivise le immagini, Instagram ancora non esisteva, e va a cercare, rispetto alla biblioteca di Seattle, quali erano quei luoghi in cui le persone fotografavano e si rifotografavano maggiormente. È quasi tenero vedere all'interno di questa pubblicazione il fatto che ancora c'era la CID Copyright, che è una cosa che ancora all'inizio dell'anno zero era dappertutto, quando si metteva un'immagine su internet e soprattutto quando poi veniva pubblicata altrove e adesso è praticamente scomparsa. Ecco, quindi, diciamo, Flickr è quel contenitore dove non c'è anche qui una regia, ma sono semplicemente le stesse persone che, abitando quel luogo, in questo caso una biblioteca, fotografavano e si rifotografavano all'interno di quegli spazi. E poi il passo successivo è capire quali sono quegli spazi più fotografati, quali sono quegli spazi che le persone utilizzano di più, ma non utilizzano di più, nel senso che si siedono e leggono un libro. Utilizzano di più a livello mediatico, cioè che producono una serie di fotografie e di commercio fotografico, di commercio delle immagini. Naturalmente erano quegli spazi che esercitavano di più la sensorialità, quindi sono foto dove c'è una particolare luce, il muro in un certo modo, eccetera eccetera. Flickr, apro e chiudo una parentesi perché qui siamo nel 2006. Nel 2006 e nel 2007 una giovane blogger utilizzerà, diciamo, sempre Flickr per altri motivi. Quindi, diciamo, due potenzialità. Da un lato la potenzialità architettonica di Colas, che comunque la rilegge in chiave economica, dall'altro una potenzialità, diciamo così, di business, di brand, di una blogger che poi diventerà effettivamente una blogger molto famosa e molto conosciuta. Tutto all'interno della stessa piattaforma, quindi condivono situazioni molto differenti, ma in fondo la base, la relazione di base delle due non è così differente. Allora, da un lato abbiamo quindi l'esempio principe, che è quello qui raccontato come il Googling di Bilbao, l'effetto Bilbao, si è detto per tanto tempo. Ecco, la cosa curiosa è che se prima l'effetto Bilbao era qualcosa che aveva a che fare con, diciamo così, un edificio importantissimo, un edificio che era di per sé un'icona, all'interno di questo mondo contemporaneo l'effetto Bilbao viene declinato in aspetti molto più piccoli, in aspetti molto minori. Cioè l'effetto Bilbao può essere utilizzato dal barista sotto casa, dalla galleria che vuole pubblicizzare una mostra, da qualsiasi altra, diciamo così, struttura che vuole autopubblicizzarsi all'interno del mercato delle immagini. Da, diciamo così, tra Bilbao e il barista sotto casa c'è stato un contesto, che è il contesto commerciale del commercio e della moda, che naturalmente ha sviluppato in maniera molto interessante questa relazione tra spazio virtuale e spazio esperienziale. Qual è? Naturalmente Colos lavora con Prada, David C. Perfid lavora con Valentino. Perché sono molto interessanti questi luoghi? Questo tra l'altro è un negozio molto bello che sta proprio qui a Roma, a Piazza di Spagna, progettato da C. Perfid per Valentino. La cosa interessante è ancora una volta la relazione tra utente e consumatore, cioè che cosa iniziano a vendere questi spazi architettonici, questi negozi? Da un lato certamente continuano a vendere il prodotto, ma continuano a vendere oltre il prodotto anche il nome, il brand, semplicemente, diciamo così, la casa, la casa Valentino. E come lo fanno? Lo fanno attraverso uno spazio architettonico. E come lo fanno? Lo fanno aprendo a queste nuove potenzialità. Cioè l'utente cessa in qualche modo di essere uno spettatore, un semplice consumatore, diventa un protagonista sulla scena e questo tipo di architetture sono strutturate in modo che quando le si va a visitare non è mica così importante comprare un prodotto. Forse la cosa più importante è la relazione che intercorre tra il visitatore e attore che sale sulla scena e contribuisce attraverso le fotografie, attraverso i rifarsi fotografie, contribuisce all'autopubblicazione del brand. Questo circuito è un circuito molto interessante e potenzialmente, diciamo così, molto interessante. Ancora un passetto avanti, l'architettura e l'icona. Per non dare, diciamo, per scontato alcune cose essenziali. Cioè il rapporto tra architettura e icona naturalmente non nasce con la fotografia, né tantomeno nasce con la fotografia 2.0. Il rapporto tra l'architettura e l'icona è sempre esistito, con una differenza però sostanziale, che prima stavamo parlando di contesti fisici. San Pietro è un'eccezione architettonica all'interno del contesto urbano romano, però è un'eccezione, è un'icona. Esiste l'eccezione perché in qualche modo esiste una sua regola. Che cosa succede però se cambiano le relazioni tra l'architettura e gli utenti, diciamo così, i suoi visitatori? Cioè se quell'architettura esiste non solo all'interno di quel preciso contesto fisico, ma esiste anche all'interno di un contesto prettamente virtuale attraverso le sue immagini. Faccio un altro esempio. Tutte le architetture oggi sono fotografate e sono fotografate tutte, sono fotografate tutti gli spazi urbani. Oggi basta entrare su Google, su Street View e abbiamo la possibilità di passeggiare all'interno di uno spazio virtuale qualsiasi all'interno del mondo. La cosa ancora più interessante è che non possiamo solamente passeggiare all'interno di una via di Parigi o di Shanghai, ma possiamo anche decidere l'anno in cui passeggiarci dentro. Cioè, Street View esiste dal 2008 e quindi dal 2008 oggi ha fatto una serie di mappature fotografiche e noi possiamo scegliere se passeggiare ad esempio per via del corso a Roma oggi, in questo momento, comunque in questo anno, oppure nel 2010, nel 2012. Quindi qual è l'interesse? È che naturalmente questa struttura così mediatica è anche un bagaglio anche comunicativo estremamente importante. Oggi possiamo passeggiare per Street View, attraverso Street View, per le vie di una città che ormai è stata distrutta dal terremoto, per esempio. Quindi l'architettura. L'architettura è sempre fotografata e quindi costruire architettura oggi in qualche modo vuol dire avere a che fare con un'immagine potenziale, con un edificio che potenzialmente diventa immagine. E allora se ogni edificio è trasfigurato in icona, ogni icona potenzialmente diventa un bene di consumo, ogni icona diventa un prodotto. Ultimo passo, ancora architettonico, e ci avviamo a concludere. Addia all'angaggio. Perché addia al linguaggio? Qual è questa relazione tra il contesto e le eccezioni? Beh, in parte l'abbiamo raccontata finora, cioè la cosa più interessante probabilmente è proprio la natura dell'architettura che sta cambiando e che è cambiata in questo tempo. Che cosa intendo dire? Pensate appunto all'esempio che facevo poc'anzi, cioè a San Pietro a Roma come eccezione di un tessuto storico, ma potremmo prendere qualsiasi edificio, qualsiasi palazzo importante all'interno delle nostre città europee stratificate nel tempo. Esisteva un tessuto ed esistevano alcune eccezioni a quelli sul tessuto. Erano eccezioni di potere, erano degli eventi particolari. Ecco, ma quell'eccezione aveva senso nel momento in cui esisteva un contesto fisico. L'eccezione ha senso nel momento in cui è un'eccezione rispetto a ciò che gli sorge accanto. Magari ha dei materiali diversi, magari ha una dimensione importante, magari ospita delle funzioni differenti. Però è eccezionale ed è eccezionale al suo contesto e il linguaggio tra quell'architettura e il suo contesto è estremamente importante. Ora siamo a un dittorato di architettura, quindi molti di noi, tutti di noi probabilmente sono architetti, molti di noi magari lavorano anche all'interno della facoltà. Che cosa gli si chiede a uno studente, a un laboratorio di progettazione? Due cose fondamentali, i riferimenti. A quale architettura stai facendo riferimento quando progetti questo tuo edificio? E poi il rapporto contestuale. Ok, questa architettura con cosa dialoga intorno a sé? Qual è l'edificio che gli sorge accanto? È più alto, è più basso? Come lo vedo? Come lo percepisco? Quali sono i materiali che scelgo? Ecco, tutto questo è una narrazione che sta all'interno del contesto fisico e che esiste ancora, perché il contesto fisico non è che non esiste più, è il contesto che tutti noi abitiamo. Però esiste anche questa compresenza, cioè tutti noi abitiamo anche questo contesto, o sarebbe meglio dire questo metacontesto virtuale. E quali sono le relazioni che intercorrono tra un edificio architettonico e il contesto virtuale? Beh, sono delle relazioni atopiche, sono delle relazioni che si ha con il mondo. E forse non è un caso che tutte quelle architetture, diciamo così, più famose, che saranno un domani nei libri di storia degli ultimi vent'anni, in fondo sono delle architetture che hanno quasi sempre perso la sua relazione contestuale, linguistica, con il paesaggio che gli sorgeva accanto. Una volta, mi ricordo, pubblicai un articolo sul Google di Bilbao, e però ci misi, presentai una fotografia di un particolare della concert hall di Los Angeles, sempre di Gary. Non se ne accorse nessuno. Quello era un edificio che stava in Spagna, l'altro era un edificio che stava dall'altra parte del mondo. Non era così importante, evidentemente. Ebbene, contesto e eccezioni. E allora, che linguaggio parla? Non ha ancora senso parlare di linguaggio architettonico se quell'edificio si relaziona non più semplicemente con il suo contesto fisico, ma si relaziona con il mondo. E se quindi la quantità di persone che entreranno a contatto con quell'edificio sarà molto di più nel mondo rispetto a quella che effettivamente la potrebbe visitare. Allora, ultimo blocco, ultima parte. Assistiamo. Quindi, da un lato a quella che è effettivamente un'iper-virtualizzazione del reale. Ogni architettura è fotografata ed ogni architettura è rimessa in circolo all'interno di un sistema di comunicazione di massa. Dall'altro, però, assistiamo anche all'opposto, cioè a una materializzazione del virtuale, nel momento in cui le fotografie e tutte le immagini influenzano il modo con cui noi ci relazioniamo e ci comportiamo all'interno di quello spazio fisico. E quindi la fotografia è passata dall'essere uno strumento subalterno, uno strumento di rappresentazione e di narrazione dell'edificio, ad essere invece uno strumento determinante. Determinante che cosa vuol dire? Che è capace non solo di condizionare quella che è la percezione dello spazio, di influenzare e determinare le forme e i linguaggi di quell'architettura, ma anche di influenzare quelle che sono le attività economiche ad essa collegate. Per concludere, che ci piaccia o no, un edificio, oggi qualsiasi edificio è diventato un edificio icona, non importa se è un'icona importante o un'icona poco importante. Ogni edificio è diventato un edificio icona e in quanto icona è una merce ed è una merce spendibile, come una figurina nell'immenso bazar delle immagini. Grazie Flavio per questa lezione, devo dire, densissima di stimoli e di riflessioni sulla nostra condizione di architetti contemporanei, ma anche di persone che riflettono sulle immagini e in generale sul nostro mondo, in questa condizione che ci trova immersi in una dimensione che ormai ci sembra naturale, questa del virtuale, ma che in effetti ha determinato un cambio radicale della nostra cultura, che è avvenuto gradualmente, ma in realtà in maniera assolutamente repentina. Sicuramente ci saranno tanti interventi, ecco io mi chiedevo appunto quali fossero proprio le conseguenze nella nostra disciplina. All'inizio io parlavo di influenza sull'immagine dell'architettura, cioè la prevalenza della dimensione in qualche modo figurativa. Tu hai parlato in maniera molto interessante anche di influenza sull'esperienza spaziale, no? Che è concepita in funzione di una comunicazione che avviene appunto proiettata in una dimensione virtuale e quindi non più legata invece alla relazione con i luoghi, alla relazione con un contesto legata a redazioni sociali anche, no? Ma appunto a un'esperienza in qualche modo fugace, episodica, che deve essere comunicata nel mondo del web. Certo, questo porta alla disgregazione del tessuto urbano e soprattutto della città come l'abbiamo conosciuta. Mi interessava anche molto questo ultimo tema che tu accennavi del rapporto tra tessuto e emergenza, no? Che è una, diciamo, dei caratteri, se vogliamo, della città storica, della città europea, no? L'idea che ci sia in qualche modo un'architettura ordinare, un'architettura del quotidiano che determina a caratterizzare il contesto e poi una serie di monumenti, di emergenze, di icone anche come l'hai chiamate tu con un termine più moderno. E in effetti invece sappiamo che tutta la dimensione dell'ordinario e del quotidiano che in questa condizione contemporanea diventa eccezionale. Se pensiamo anche agli spazi domestici che ormai hanno perso in parte la loro dimensione privata, sempre perché proiettati in questa dimensione appunto della comunicazione virtuale sul web, capiamo insomma che questo processo è ormai pervasivo, no? Che appunto tutti gli elementi dell'architettura quotidiana ormai sono equiparati in questo processo, no? Ad architetture che devono essere eccezionali, speciali, che devono dare luogo a un evento, a un episodio eccezionale. Ecco, non è una vera e propria domanda, ecco, è soltanto una riflessione ulteriore che mi ha stimolato, diciamo, anche rispetto a temi che mi interessano. Quindi... Sì, no, no, è certamente vero e forse la cosa più interessante è esattamente questo che spesso quando si parla di questo, no? Della relazione tra architettura e immagine si affronta il tema sempre quasi come una dicotomia, ok? Esiste l'architettura, esistono le immagini, allora ci sono da una parte quelli che dicono, ah, è molto importante il contesto urbano, è molto importante lo spazio fisico, tutto il resto viene meno. E altri invece dicono, no, ma in fondo il futuro sarà l'immagine, quindi portiamo avanti soprattutto la parte, diciamo così, iconica o di rappresentazione fotografica. Insomma, la cosa più interessante è che non solo non c'è questa separazione, ma la produzione fotografica ha portato centralità allo spazio fisico. Cioè, tutte queste architetture. Poi, qual è, io dico la parola linguaggio, ma in fondo probabilmente è la parola più sbagliata per raccontare questo, ma se dovessimo dire qual è il linguaggio dell'architettura contemporanea, o meglio, qual è il soggetto dell'architettura contemporanea? Beh, certamente il soggetto principale è lo spazio. E probabilmente è lo spazio proprio perché? Perché non essendoci più dei rapporti, perché se un'architettura deve parlare a me, cittadino romano, a un francese, a un new yorkese, a una persona asiatica o a un africano, tutto ciò che noi abbiamo in comune, certamente, anche se magari vissuto in maniera differente, però, diciamo così, il grado zero di comunicazione è lo spazio. E allora la fotografia in realtà ha riportato centralità, ha riportato luogo, ha riportato argomento alla percezione spaziale. Questo è estremamente interessante. Cioè non parliamo semplicemente di figurine che noi compriamo o vendiamo, ma parliamo di come poi quegli spazi interagiscono con noi, ci stimolano a delle relazioni, ci stimolano ad abitarli. E questa stimolazione ad abitarli oggi vuol dire anche condividere quello spazio all'interno dei social network. Poi che ci piaccia o meno, che lo facciamo o che decidiamo di non farlo. Comunque quell'economia è stata sviluppata. E quell'economia poi, a livello numerico, è estremamente importante. Quindi sì. E rispetto a, diciamo così, il contesto urbano eccezione è esattamente questo. Cioè, se tutto diventa un'icona, se tutto diventa un'eccezione, è possibile ancora oggi parlare di un tessuto urbano se tutte, se ogni architettura parla una lingua tra sé eccezionale, se la somma ed eccezioni può dare contesto? Questa è la grande domanda. Probabilmente no, probabilmente da un contesto a cui oggi ancora non siamo abituati, perché siamo abituati a città storiche invece che vivevano di una coesistenza e di una compresenza proprio di linguaggi comuni tra loro. Io ti ringrazio molto perché questa tua presentazione ha toccato alcuni momenti, appunto Marro poi me lo sono trovato, mi sono trovato questo L'Evoire du silence e ho cercato anche qualcosa su internet perché avevo la curiosità di capire, è illegibile quel testo, è francamente illegibile perché gronda retorica. Allora mi sono detta, le immagini sono sicuramente meravigliose, ma ho cercato una chiave esplicativa che si avvicinasse a me, perché c'è un oiato temporale che rende impossibile appropriarsi di Marro senza una mediazione e non ci sono riuscita, ho trovato che lui si declamava, cioè le uniche cose che ho trovato sulla rete sono la declamazione con questa voce profonda, costante, uguale a se stessa, ecco, mentre invece Benjamin è molto più vicino alla nostra, come dire, anche eticamente diciamo, alla nostra postura. Però ecco, quello che tu definisci con molta chiarezza è che Marro propone un percorso unilineare, mentre invece adesso noi siamo immersi in una cultura delle immagini che fanno scopa dentro ciascuno di noi in maniera diversa sostanzialmente. Questo significa un grado di libertà in più, significa una capacità di manipolare e di crescere dentro dei percorsi non precostituiti, oppure, come dire, questo consumo è come dire, anche questo diventa unilineare da un prodotto banalizzato per tutti. Questo è un po' il punto di arrivo. Non conoscevo il passo conclusivo proprio di questo audio langage, perché forse non avevo seguito alla fine la tua resi e invece mi sembra molto suggestivo il principio di questa sovradeterminazione dell'immagine nei riguardi anche della banalizzazione dei paesaggi reali, o della banalizzazione, comunque della condizione che fa, come dire, che rende, diciamo, equipollente l'esperienza di Bilbao, è l'esperienza della Disney di Los Angeles, insomma, la Disney Hall, si chiama Disney, no? Ecco, che ho visto e che è effettivamente di per sé ridondante. Quindi, scusa, tutto qui. Quindi, congratulazioni, perché, devo dire, il filo è assolutamente, per i nostri dottorandi, ancora una volta, è importante, appunto, che si capisca un percorso e tu lo hai anche, come dire, esplicato con grande eleganza e con, diciamo, anche una certa, senza ridondanze, con grande chiarezza. Lascerei la parola, però, a qualcuno dei nostri ospiti, se c'è Giovanni.